Spalpe Grazzi al limite della capienza, terreno in ottime condizioni, ventilazione inapprezzabile. Ecco in avanti il Milan per questa partita meravigliosa che è Milano-Juventus che già ci ha regalato grandissime emozioni. Ecco in avanti il Milan, è solo davanti al portiero il centra... Attenzione, sono Luzzi, ha segnato la Pistoiese, grandissimo gol di insanguine che con una prudezza balistica eluso l'intervento dell'estremo difensore Patarino, quindi Pistoiese 1, Padova 0, linea allo studio. Interveniamo da Milano, non vogliamo essere interrotti se non lo trattamento è necessario perché è una partita vincente quella di Milano-Juventus, ecco in avanti la Juve in questa... Attenzione, sono Luzzi, grandissimo gol ancora di insanguine che con un'incornata è riuscito a mettere la palla nel 7 là dove l'estremo difensore Patarino non è riuscito ad intervenire, quindi passiamo la linea allo studio definitivamente. Grazie a tutti, grazie a tutti.